Nella penultima giornata il Pineto pareggia per 1-1 in rimonta contro il Matese sul campo neutro di Venafro. In vantaggio nella prima frazione i padroni di casa con Galesio, Minnozzi dal dischetto, pareggia per gli Adriatici. Procedio finale di una stagione infuocata domenica contro il campo basso per i Biancazzurri allo stadio Mariani Pavone con tre squadre appaiate a 53 lunghezze. Calcio d'inizio per i padroni di casa, parte forte la squadra di Urbano ad Usa sul fil di lana. Scarica il centro e Galesio da due passi non ha problemi a insaccare la sfera, sempre l'undici campano prova a fare la partita. Barone dal limite sfiora la traversa, al ventesimo i Biancazzurri non ci stanno, traversone dalla destra, tocco di mano di Cassese e calcio di rigore. Minnozzi dal dischetto rimane glaciale, spiazza Kuzmanovic e trova il quattordicesimo centro personale. La squadra adriatica prova subito il sorpasso, Minincleri pennella, Mesisca da ottima posizione, spedisce la sfera sul fondo. I lupi provano a rimettere il muso davanti, azione personale di Adusa, Mercorelli devia in corner. Ancora i verde oro sfiorano il 2-1, l'angellotti conclude, Mercorelli forse con la punta delle dita devia quel che basta e il pallone si stampa sulla traversa. Botte risposta a Bruzzese, Minincleri in coccia, sfera che bacia il montante alto e si spegne sul fondo. Nella ripresa il Pineto vuole il vantaggio, Minincleri tacco per Bugaro e assist per Galeano. Il bisturi del centrocampista Uruguagio non trova Minnozzi per Millimetri. L'undici ospite vuole l'intera posta, cross per Mastrippolito, Kuzmanovic smanaccia e salva i suoi. La partita è vibrante. Sul capovolgimento di fronte Galesio sale in cielo, palla fuori di poco. Il match si appisola e non succede più nulla. Le due squadre si dividono dunque la posta in palio, preannunciando un finale di stagione caldissimo. con le due compagini insieme al Cinzia e al Balonga appaiate a 53 lunghezze.